La squadra mobile dell'Aquila diretta dal dottor Danilo Di Laura ha arrestato i quattro presunti responsabili di età compresa tra i 40 e i 50 anni della rapina a mano armata in centro ai danni della gioielleria Ranieri lo scorso 27 gennaio, tre in carcere a Lanciano Cassino e Roma, uno ai domiciliari, tutti italiani pregiudicati con precedenti specifici, presi anche grazie alla collaborazione con altri mobili. Il basista è del posto, vive all'Aquila da tantissimi anni. Un ottimo risultato, senz'altro, ma soprattutto un risultato molto rapido per il quale dobbiamo ringraziare anche i magistrati della Procura della Repubblica che hanno lavorato in tempi rapidi perché la velocità e la celerità nello svolgimento degli accertamenti in questo tipo di reato è fondamentale innanzitutto per dare una risposta concreta ai cittadini che vengono pervasi da un senso di paura a seguito di questi fatti criminosi ma soprattutto perché col passare del tempo poi le tracce e le percezioni anche investigative tendono a svanire. Tutta gente che comunque orbitava attorno alla città, gente di fuori non avrebbe potuto organizzare infatti una rapina del genere in pieno centro. Sin dall'inizio la polizia ha capito che c'erano contatti locali, erano rapinatori veri e propri. Il 27 gennaio scorso la rapina a mano armata aveva terrorizzato la città. Dopo le 18 due malviventi erano entrati in gioielleria facendosi consegnare i badge per aprire le vetrine e rubare i preziosi, soprattutto orologi Rolex per un bottino di 100.000 euro. Un mese poco più, serrato di indagini per individuare i responsabili, presunti e responsabili. Fondamentali sono state le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire anche i movimenti della banda nei giorni precedenti al colpo. Emerge chiaramente che avevano studiato bene il posto, ma fondamentali anche le testimonianze, fonti confidenziali che hanno permesso di associare ai volti, seppur travisati, i nomi. Il bottino non è stato ancora recuperato e non si sa se sia stato già introdotto sul mercato. La Procura ha coordinato le indagini per il colpo usato un furgone bianco non rubato di una persona del posto. Sì, un fatto sicuramente allarmante per la realtà aquilana, fortunatamente che non avviene tutti i giorni. La risposta è stata rapida e decisa, grazie appunto all'attività svolta dagli uomini e donne della squadra mobile di L'Aquila, coordinati dalla Procura della Repubblica, che sono partiti da canoniche e spesso non utilizzate, tecniche di indagine, partendo dai confidenti, partendo da piccolissimi elementi, frammenti di immagini che hanno permesso appunto di individuare i presunti autori di questa rapina.